Tommi, sai che c'è? Nelle ultime notti ci hanno raidato troppe volte Ho visto troppa gente avvicinarsi, gruppi sconosciuti Addirittura gente che ha costruito fortificazioni e ci hanno attaccati Qui a Kille... Ah perché tu non sei l'ultima Quale? Non sei l'ultima, Corey Ah, si sono alleate 30 persone per distruggerci il villaggio 30 persone? 30 persone, si Cioè, siamo nella merda Allora, se dobbiamo fare una cosa a modo Iniziamo a organizzare comunque dei turni di difesa Comunque dei pattugliamenti della zona Perché non voglio che qualcuno mi fischi in casa all'ultimo momento, capito? Ma ci mancherà O ci distrugge a Killeville Io direi di cominciare a fare un pattugliamento qui da queste parti Ecco, perché noi non la guardiamo mai la costa Esatto, esatto, esatto Se ti avvicini troppo all'acqua, il gioco ti shotta, mori Però qualcuno potrebbe fare il giro dalla costa Proviamo a vedere se... Lui si guarda sempre il bosco e la strada Proviamo a vedere se anche da di qua Arriva qualcuno Eh, guarda se c'è un sentiero da queste parti Eh, qui in mezzo alle rocce sembrerebbe di no No, qua non si può salire proprio No, no, qui non si può salire Vediamo se dalla parte del mare... Oh, ancora le barche non ci sono in gioco Oh, 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 oh Chi è? Eh, 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 salve Salve Fermo, fermo, fermo Chi è? No, sono innocente Sono arrivato dal... Ah, vera, madonna Ho detto che sono innocente Stai fermo Sei armato? Sono lioness Eh, non lo so C'ho una torcia Cioè, una pietra Una pietra? Oh, non ti avvicinare sempre che ti faccio La pietra è terribile No, aspetta Lioness? La metto fin... Sì, sono lioness Ma a te ti ricorda qualcosa questo nome, lioness? Ma a me non... Non so No Eh, sono conosciutissimo Eh, avevo una casetta una volta Poi mi hanno... Mi sono entrato in casa Ascolta, secondo me Parlavi di quelle trenta persone Secondo me ci sta prendendo per il culo questo lioness Secondo me non è spia, lo sai? Ma che trenta persone? Io non conosco nessuno Sono da solo Un paio di pantaloni Ascolta Sai quanta gente abbiamo visto in mutande Che ci sparava con l'M4? Vieni Seguici Vai avanti Vai, cammina Ma dove me lo metto l'M4? Eh, potresti averlo nascosto in qualche orifizio oscuro Orifizio Vai avanti Quattro metri da me Senza girarti Eh, vai avanti Cammina e sale la collina Qui Vedi c'è un sentiero qui sopra Dove punta il laser Sì Non vedo più il laser Sembra di giocare a jailbreak Su G-bot Io vado con fiducia Però mi raccomando Non mi trattate male No, no, no Non fare il furbo No, mi sa che È questa la strada Sì, gira di qua Dove ci sono le barricate Sì, la tirà Vai là Scritto per le barricate Avanti Eh, questo fa troppo il furbo Si fa trovare sulla costa A mezzo nulo Sì, sì Questo stava lanciando un segnale Scusate, io ho fame Sì, sì Ora ti do da mangiare io Non ti preoccupare Vai Un bel cosciotto Non troveva nessuno Ah, grazie Allora, di qua Di qua Di qua No, strada sbaglio Dove va? Dove va? E che cazzo ne so? Di qua? Di qua? Vai di qua? Vado di qua? A quella politica da qui? Come vi siete sistemati bene Guarda bello Avete forestato tutto Per creare sta roba Entra qui dentro subito Ci manca la scala qua signore Dio ti ha fatto le gambe Salta Ah, ok Che bello Eri Tommy Ah Eh, ma io Io comunque Ho un vago Chi Aspetta Dov'è? Perché siete un attimo uguali Quindi è difficile distinguere Lei Lei si ha indossato I collanti Come braccia Mi sa Sì, sì No Quando praticamente ti vesti così Ti mette le calze Alle braccia, sì Ok Io stavo dicendo Che la sua voce Mi sembra familiare però Ah, mi sembra familiare? Sì Ah, ma anche la sua Eh, lo sa Mi sembra un po' Sì Un po' conosciuta Non è che Ci siamo già incontrati Forse su DayZ Può essere Non è che Mi ha salvato la vita E mi ha fatto una trasfusione Eccolo chi era E tu mi punti un fucile E mi punti un pezzo di me No, guarda No, chiedo scusa Non ti avevo riconosciuto Ma se hai vestito Sei mettata le mano Eh, lo so Non so come sono finito Su questo altro gioco Perché io ero su DayZ Poi sono arrivato qua Mi hanno trattato male E se vedi Andavi verso Cerno Si è finito mare E la mareata Ha portato sul Rust Boh Qualcosa del genere Deve essere successo così E insomma Questa è la vostra città? Questa è la nostra città Sì Questa In particolar modo È la mia casetta Che ora Qualche bioccolo maledetto Che la vedrà nel video Me la verrà a raidare Perché ha capito Come arrivarci E mica ci sono le coordinate No Quello no E direi che Al momento Visto che sei nudo Ti servirebbe qualcosa Per vestirti Quindi Non sono proprio nudissimo No vabbè Nel senso Le scarpe e la maglia Apri pure le casse Prendi quello che ti serve O te lo crafti con i materiali Ah che gentilezza Allora prendo E guardi Prendo un po' di pelle E mi faccio Mi faccio il corpetto E le scarpe Perché ci sono molte schegge Sì E poi prendi Fai una cosa Dentro le casse Tant'è visto C'ho roba da buttare Prendi anche Una pistola O un mitra Qualcosa E te lo prendi No Devo partire Per le bra Ma senti boh Posso craftare Due oggetti insieme No No Due dello stesso tipo Sì Due o più Eh no Vabbè grazie a cazzo Mi faccio Mi faccio due Due corazze Me le mettono nel culo Nel pezzo Non lo so Ok Allora Mi hai detto Un arco Non hai un arco Mi piacerebbe tanto Un arco Prendi la legna Dentro le casse E il clot La legna è qua Ah prendo un pochino di legna E poi cosa faccio Dove mi portate Buoni uomini Eh Ma dove lo possiamo portare Tommy Eh Ma Non saprei proprio Ma lo possiamo portare Qui fuori A fare un po' De risorse Eh Ho bisogno anche Delle frecce Eh sì Ti devi craftare Anche le frecce Eh sì Esatto Tieni questa roba Mi sto equipaggiando Ora sono Sono molto più vestito Di prima Sì sì Ho portato per terra Da mangiare Ah che gra Gra Ah visto Quando si incontra gente così Madonna che prima Vuole fare del male Poi però Torna ad essere buona E umana Eh beh così È così Cioè Ti abbiamo riconosciuto Senti Oddio ma è quella Io ne sei qui Dica finito no Parte la La pennellata di culo Come si chiama Ok io sarei anche Praticamente Pro Eh Eh Ho sentito culo Culo No Sono spaventato È Tommy che parla sempre di culi Non lo so perché Io non ho parlato di culi No Oh chi era Ora è uno fuori Io non ho Ah io mi sono craftato Praticamente Mi mancano dieci secondi Per le scarpe Poi metto a fare le frecce E sono pronto Possiamo andare Pronto Rudimentale al massimo Ok Rudimentale Però Sono un guerriero Delle caverne Voi qua siete talebani Non si capisce Lui siamo i delta Forza Senti così Di nero Eh Siamo senti sera Ho anche un paio di pietre Dove sta Oh ma ci sono già delle frecce Ah prendo queste Sì ci sono già Le ho rubate a un cadavere Prendile pure Ma te quanta legna c'hai qua Mi sa Oh l'aereo Che succede Si stanno venendo a prendere Un airdrop Un airdrop Apri Dove è Mi sono arcato Dove butta Dove butta Dove butta Dove butta Non so Che ha buttato Oh L'ho buttata qua vicino Eh ma Anche io voglio Cosa è successo Spiegate Spiegate Allora Le vedi quelle casse là su Sì Sì E' un aereo che passa Ogni tot E lo decidono Gli admin di ogni server E dentro quelle casse Trovi delle cose rare Tipo C4 Andiamo Andiamo Allora No rare Vabbè Delle cose comunque Eh ma è lontano Lì dietro c'è casa di snow Mi sa che se andiamo lì Ci mitragliano Andiamo 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 Aspetta un po' Come si fa a uscire da questa Eh Avete circondato tutto Avete Hai visto bello Fagli una panoramica Fagli vedere bella Killer Bill Ok Se io Se io mi c'incollo Muoio Vero Eh Sì Occhio Ah È molto pericoloso Ah bello Guarda pure il cancello Madonna C'è C'è tutto qui Io sono Primordiale No Però voi no Tutto di legno Allora Prenditi la legna Sì C'hai pure ragione Però Non l'accetta Eh te la faccio Aspetta Vediamo un po' Se c'è materiali E poi al volo Ma vabbè Se no Prendo con la pietra Allora Stonacette Sì Te la faccio subito Ah poi un'altra cosa Che mi è sembrato di capire È che le risorse Questi gruppi Cioè le pietre Le cataste Spawnano tutto In certi punti Sono concentrate In certe aree Vero? Purtroppo Sì Non abbiamo ancora capito Se è un sistema Che più ci sono Giocatori In una certa area Più le risorse Si spawnano O se proprio Le zone della mappa Sono scoperte Perché ci sono Parti di costa Che giri Non trovi nemmeno Un animale Quindi penso Penso di sì Che sia La prima Però potrebbe essere Una cosa che viene Corretta nel tempo Chissà Sì sì Anche perché Vabbè La cosa brutta È che mettendo Tante risorse Nello stesso punto Tutti i giocatori Si concentrano lì E siamo troppi poi Oppure che tu giri Un po' Un quarto d'ora E non trovi niente E non trovi niente Infatti i giocatori Si lamentano Eh giro da un'ora Non ho trovato nulla Eh lo so Eh purtroppo C'è un lato della mappa Dove non c'è niente Che è ancora in testing Diciamo Esatto Ma proprio niente Niente Nemmeno gli animali Nulla Stiamo andando Nella direzione giusta A me sembra Più destra Vi state spartendo Eh sono sulle montagne Ma l'avranno già presi No No Che è Quanta gente ci sta Stiamo Andiamo a faccia abbassare Andiamo Diciamo Io Saranno Sette accampamenti diversi Infatti Cacchio Ah stiamo Siamo in missione suicida Bisogna assumere L'atteggiamento Da battaglia Ma andiamo avanti Lioness Infatti vai avanti tu Che nessuno ti conosce Esatto No poi va avanti con l'arco Almeno dicano E lasciamolo stare E se appare noi Si spara Ok ok Eh c'è gente Oh c'è un tipo Va dentro Chi è Ma è nudo È nudo Oh mio dio Sei una merda È una merda E c'ha la porta di casa aperta Tommy C'aveva gli oggetti Prendili Vieni dietro Lion C'ha la porta di casa aperta Ah no ma non c'è un cazzo Wow Aspetta pieno di roba No non è vero Sono io pieno di roba Lui non ha un cazzo Ora capisci perché ci vogliono uccidere tutti quanti Aspetti Ti ha scritto Aspetti Ti ha dato nel lei Aspetti Scusi Mi scusi Non mi spari Mi scusi Non mi dai predi Per favore Oddio Che schifo Dove sei Adesso lo prenderò un sacco di insulti sotto questo video Vabbè Allora Oh io No sei stato bravo Cioè Ho la morte Ho la vita Posso sparare allo zombie Non ho il mirino Eh non c'ha il mirino l'arco Ho capito Eh tiro al torno Eh ho capito Come cazzo fai Ma che fai Il tiro al torno Sull'albero Mi rilano È un casino Non si capisce dove cazzo è il centro Eh vabbè Ma Legolas non c'aveva il mirino Eh Ancora Aspetti Aspetti Al prossimo lo prendo Eh ma si muove Liscio Oh vabbè Ok lascia Vaffacculo Avvicinati un po' Ma che vacca mo ci vado con l'acetta Ci vado Guarda il mio fucile Ti scoppia con l'acetta Voglio andare per gradi Se prendo da subito armi da fuoco Puoi Vai Cecchinato Hai ragione Considera che io fino a Oh aspetta Qua c'è roba Guarda questi bastelli Sono accampati a fianco a tutta la Eh prendi le nocce Che prendi lo zolfo Ricorda che ogni volta che ammazzano zombie Lo zombie ti lasciano dai netto con gli oggetti Eh gli zombie questo zolfo Ah ho delle cose random Possono darti un'arma Un c4 Delle munizioni Un po' di tutto Dei progetti Oh ecco un altro Ehi Ehi Vediamo un po' che ha E' un progetto infatti questo Imparatelo Dove sei? Sono dove c'erano le pie qua A te questo zonetto Fermo zombie Fermo E' un progetto della Della holocyte E' un mirino se non sbaglio Si probabile Ok La me la metto nell'inventario Si fa così no? Si No You can now craft holocyte Eh si Posso farmela per l'arco No E' troppo bello Occhio Occhio sparare Che io mi muovo con fiducia C'è un altro zombie di là Vai Faglielo far lui con l'arco Vediamo se lo metta No ci rievo Vaffanculo Dovrei avvicinarmi di più Ma non ho capito dove cazzo è il centro Eh ci rievo all'occhio Sto prendendo la pietra da sotto il culo Ci lo so Ah che cacchio Allora Che non vedevo da sotto Addio Oh occhio Wewewewe Wow Eh il fucile a pompa è bellissimo E ste casse dove cazzo erano Io le ho viste Cioè Dovremmo esserci Erano qua Guarda Lion guarda qui dove sono io Nello zaino Cioè nel metto in Kevlar No scusa in Kevlar In leather In leather C'è l'hole Eh ma quello tuo è Oh occhio di F Wewewe Oh 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 Aia La madonna puttana No no Non si dice Non si dice Eh ho capito Ora tocca censurare No eh porca puttana Sei un nemico Bastardo Sparali 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 Così Ollie Con l' modale Ma la decisione Magari prende qualcuno Dal di là delle montagne Il bello è che lui In questi giochi S'agita Sempre S'agita Ahahahhah Al capito Mi attaccano dalle spalle Poi Io ci vado A vedere qua Cosa faccio Andiamo 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 Vai Andiamo A vedere Chi c'è Si 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 fa la Stration Accetta Perchè L'arco Mi sa che non è La mia Quell pane quotidiana andiamo un po' secondo me ci ammazzano ci ammazzano si pare che non ci sia nessuno siamo in tre anche perchè questo qui è il lato della città nemica esatto c'è qualcosa? c'è una casetta qui è quella che si è fatta si ci odiano laggiù è il vicinato andiamo a fargli vedere un segno di pace li si porta a lioness come prigioniero no non voglio andare da prima ma senti ma io le casse voglio io eh se le sono già prese basta in effetti si c'erano qua questi tizi questa è la casetta che si fece saltare nel primo ride io direi di scendere per strada e vedere se c'è qualcuno di là? andiamo si ho perso hai dai andiamo a vedere se si trova qualcuno aspetta che mi nutro aspetta che mi nutro ce l'hai da mangiare? eh voglio nutrisciti bravo mi sono nutrito andiamo andiamo se vuoi c'ho altri 200 pezzi di carne cotta no tu vuoi? eh quella base lì di chi è? quella mega casona di là quella è nuova è nuova? andiamo un po' a vedere un nuovo colono bastardo polono no questo non c'era non l'ho mai visto oh cazzo guardalo 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 l'hanno fatta sopra la casa del gioco cioè guarda che figata questo ha messo uno shelter ci ha fatto la porta e ci ha costruito no è una figata questa lì entro? tanto io sono l'innocente ah non gli posso entrare eh no bisognerebbe far saltare la porta eh non non abbiamo portato vediamo se è stato poco furbo da mettere la finestra sì è stato poco furbo entriamo no ma vuol dire che no l'hanno già raidato se hanno messo le scale esterne fidati dici non l'ha messa lui? no no aspetta guardo guardo se c'è qualcosa guarda che è stato lato qua no è vero non sono sue sono brutte vero? oddio sono mica non c'è non c'è un cazzo nemmeno una cassa niente no l'ha appena costruito no peccato era bellissimo possiamo occupargliela possiamo sfasciare tutte le pare ma il problema è che poi non puoi chiudere le finestre e ti entra la cassa cioè io posso posso spaccare una parete di legno giusto? accettate accettate no ah cioè forse sì no no accettate 4.000 colpi sì accettate sì una parete di legno ma serve un casino eh no c'è la porta no la porta di ferro no la porta di legno sì ma tipo 400 accettate la di sfuggi madonna cioè serve ma è anche giusto perché ci devi proprio pentare sì serve un pomeriggio serve c'è una zombie anche qui c'è un casino ma non sentono un cazzo questi zombie oh qualcosa mi ha sparato come ti ha sparato non lo so io ho visto un colpo che si infrangeva qua vicino a noi non è che eh non è che ci sta tirando qualcuno dalle rocce oh c'è un bel po' di risorse qui eh se le vuoi prendere eh sì mi risorto occhio a non mettervi davanti mentre accedo ho paura di prendere tranquillo come l'altra volta ok ok ehm eh già è esperienza brutta allora sì sì la prima volta che ho giocato è successo gli ho dato una pietrata in testa così a me mentre mi stavo rispondendo verso di lui mi ha ammazzato praticamente mi ha scattato ok dove possiamo dirigerci secondo voi adesso ma dove si può andare adesso si può andare ah lì si fa vedere il coso il mi si chiama l'angar da questa parte qui ah sì ok ok eh che di sotto c'è qualche giocatore passa qua perché sennò ci sono le radiazioni sulla strada vabbè arrivo aspetta mi sono buggato nel ok eccomi mi sono buggato nella nella legna nella legna no non si può più finire ok ok mi sono sbuggato credo no mi sono aiuto ma che succede è lag mi riporta qui è lag è lag è che lago solo io sì è lag solo te eh sì anche altri stavano lamentando ok voi no però eh ma forse sì forse anche noi ah sì stiamo laggando anche noi non mi cambia le armi ah sì adesso adesso non lago più no per ora nemmeno io ok ok ora nemmeno io andiamocene ok boh no 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 sta laggando di brutto sì stiamo laggando tutti perché ci riporta qua eh mi sa che no ora ora ti vedo muovere no ora ti vedo bloccato torni indietro praticamente ma ma porca paga fammi andar via ok sono andato via andato via sei davanti alla roccia ora eh ma non me le da quindi ok ora si eh mi sa che è un lag strano sì sembra lo spike lag più che altro bisogna fare si finisce il video e poi si fa se ne avvia il server ok da quanto tempo stiamo andando avanti possiamo concludere qua ma io direi che per i miei tempi lo sai vado con l'orologio biologico no vabbè ok il quarto d'ora si è fatto secondo me ok allora benissimo allora chiudiamo qua per questa volta nell'episodio successivo credo che ci saremo ancora saremo ancora insieme io verrò a vivere da voi non lo so vedremo scrivete nei commenti che cosa volete che succeda del prigioniero lion se mi devono ammazzare oppure se mi devono accogliere nella loro possiamo fare un woodshelter piccolino da spendere giusto 50 di legna ce lo rinchiudiamo dentro e lui quando vuole uscire bussa e ci fa ragazzi per favore mi fate uscire se ti comporti bene guarda che io alla sconfidata potrei accettarti tra capo e collo ma io sono piccone eh eh allora è casino è una sfida bene quindi chiudiamo chiudiamo il video sì 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 chiudiamolo qui e speriamo al solito che vi sia piaciuto vi abbiamo fatto divertire abbiamo fatto questa intro un po' gdr e niente altro gioco survival al solito puntate sul rust perché è un bel gioco veramente se volete venire a giocare con noi sul nostro server link è in descrizione e da Coridan è tutto ok e io vi auguro una buona giornata se la giornata di oggi doveva essere finita mentre guardavate questo video guardate quello di domani lion Coridan e Tommy out out perché te l'ho detto nell'ultimo video lo devi dire lions out è importante ok io ho finito ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti